Benvenute! Allora oggi sfogliamo insieme l'album numero 6 del livro Shea che valido fino al 21 maggio 2019. Prima cosa che notiamo sicuramente è le novità make up quindi il nuovo eyeliner quello in roller quindi quello con la rotellina che sono curiosissima anch'io di provare e il nuovo mascara con le fibre di bambù. Sono in edizione limitata intanto e comunque per questo album sono anche in un bellissimo set che è anche carino con la bustina e poi sono a tenere d'occhio anche la promozione sui matti toni grossi, la promozione per i set della cura del viso perché ci sono i set per la cura del viso e per ogni set sia in omaggio un trattamento giorno e notte in mini size. Poi ci sono i prodotti, i set, le idee regalo per la festa della mamma e infine anche la promozione sui solari quindi le novità sui solari e poi i beauty da viaggio in omaggio ogni 30 euro d'acquisto. Stavo leggendo ma direi che vi ho detto più o meno tutte le cose salienti e quindi direi di sfogliare subito l'album. Allora eccoci qua direi di iniziare perché è un album bello ricco. Allora vediamo intanto la prima novità che è un'edizione limitata è il Roll On Liner, è un eyeliner con l'applicatore a rotellina. Sinceramente non li ho mai provati ma dicono che sono molto validi e comodi da applicare e quindi questa è l'occasione buona perché lo voglio provare. Colore nero intenso e poi c'è anche l'altra novità che è il mascara eccolo qui ed è con le fibre di bambù per ciglia più spesse. Ha uno scovolino in fibre che è interessante e mi piace molto e la formula è una texture minera intensa e ci sono ovviamente anche i set. Allora il primo set 19,95 comprende la bag che è molto carina, poi il mascara, l'eyeliner quello in penna quello classico e la mia matita occhi nera. Se no 19,95 sempre esatto si ha il nuovo mascara, la matita occhi intensa e l'eyeliner quello nuovo a rotellina, quindi sempre con la bag, molto carina come idea. Altra promozione vediamo qui, eccola perché abbiamo i due matite glossy a 14,95 quindi la prima sempre col codice nero e la seconda col codice rosso tra tutti i colori, sono perfette perché sono più intense di un lucidalabbra ma ed è più confortevole il grossetto e sono molto pratiche anche da portare in giro. Altra promozione, eccola qui, e sono i set anti età e oltretutto oltre ad avere il set anti età, acquistando ogni set si ha in omaggio le mini taglie, quindi le taglie da viaggio della texture, questa qua in questo caso quella da giorno e quella da notte, quindi ad esempio 39,95 dell'anti page global, set anti età sublimatore, giorno 50 ml, più il trattamento illuminante occhi, più la pochette e in omaggio ovviamente si hanno il trattamento il siero, suppresses, esatto, esatto e il trattamento a notte. Stessa cosa anche di Aline Elix region S quindi 29,95 e il set che comprende il trattamento giorno e quello da pelle anormale a miste e il roll anocchi defaticante, più la pochette e in omaggio si ha il siero doppia azione, più il sleeping, quello da notte. Se no, eccola qua, il set con potenzioni 50, 29,95, sempre la linea Elix region S, sempre in omaggio ai stessi trattamenti, ma la differenza è che si ha il trattamento ed è occhi, ovviamente, il roll anocchi e più il multiposizione con potenzione 50, oppure se si preferisce quello anche con potenzione 30, il prezzo non cambia e c'è sempre l'omaggio. Se no, da Aline Elix region S, sempre in omaggio il siero da giorno più il trattamento da notte, il set invece comprende a 24,95, il roll on e trattamento illuminante per gli occhi e il trattamento levigante giorno. Serum vegetale, quella linea rimodellante, sempre in omaggio con 29,95, il set sia in omaggio il trattamento giorno e notte, il set comprende il trattamento occhi e petto lift e il trattamento modellante giorno. Andiamo avanti, trattamento a rimpolpante 26,95, abbiamo il set filler mirato occhi e labbra più il trattamento a rimpolpante giorno e in omaggio il trattamento giorno più quella notte. Ovviamente anche la linea Rich Creme che ha il set a 29,95 con il trattamento anti rughe benefiche giorno e l'anti rughe benefiche occhi e in omaggio il set giorno più notte. Vediamo ora l'altra promozione, ecco la qua perché abbiamo due maschere viso a 6,95, possiamo scegliere tranquillamente tra quelle rivitalizzanti, illuminanti o purificanti, la prima col codice nero e la seconda col codice rosso. Veniamo ora all'idea per la festa della mamma, allora il primo che vediamo è il set mamma e figlia che comprende i dolci momenti condivisi, questo kit da 12,95 che comprende il trusso ovviamente, poi il gloss, eccola qua, il balsamo labbra al cocco, poi abbiamo la crema mani al fiore di loto e salvia e la crema mani al noce di cocco. Se noi abbiamo il set, eccoli qua, delle plazine tour, il set ad esempio questo è il mango e melagrana, 14,95, comprende la confezione, poi abbiamo il latte corpo, mango e coriandolo, il bagno doccia, mango e peperosa, crema mani, mango e coriandolo, sapone e liquido per le mani, mango e coriandolo. Se no, eccola qua, il set coccole e tiare, che comprende 14,95, questo è sempre la confezione, e poi abbiamo il latte corpo al cocco, bagno doccia, fiori di tiare e ying liang, crema mani al cocco, sapone e liquido per le mani al cocco, oppure il set vaniglia barbon, sempre 14,95 con la confezione, più il latte corpo vaniglia barbon, il bagno doccia vaniglia barbon, crema mani vaniglia barbon e sapone e liquido per le mani, è sempre la vaniglia barbon. Altri set, eccola qua, amam e cocco, per che comprendiamo 14,95, la confezione ovviamente, più il bagno doccia, crema mani e latte corpo alle argan e rosa, più il sapone e liquido per le mani al cocco, oppure il set oliva e manoglia, in questo caso abbiamo 14,95, il confanetto, più il latte corpo, il bagno doccia, dunque, il latte corpo, oliva e petit grain, bagno doccia, magno olio e tè bianco, crema mani, oliva e petit grain, sapone e liquido per le mani, oliva e petit grain. Andiamo avanti, il set oliva, mandorla e lavandina, 14,95, in questo caso abbiamo il latte corpo, mandorla e fiori di arancio, il bagno doccia, lavandina e mora, crema mani, oliva e petit grain, sapone e liquido per le mani, oliva e petit grain. Oppure, ultima idea, il set a regalo, 9,95, delle creme mani, in questo caso abbiamo il kit con 4 creme mani, che ci sono quelle al cocco, oliva e petit grain, mango e coriandolo e vanillia barbole, e la trovo un'ottima idea. Veniamo ora all'ultima promozione con il set dei solari. Allora, in questo caso ogni 30 euro di acquisto dei solari, si ha il travel e set da viaggio, ovviamente. Quindi c'è i kit beauty, che sono questi, quindi quelle più grandi e quelle più piccole, e poi la trousse, che è anche comoda, perfetta per riporre sia i solari, ma anche tutti gli altri altri beauty da portare in viaggio. I solari, ovviamente, sono tutti quelli delle varie protezioni, quindi protezione bassa, protezione media, protezione alta, più le novità, che sono il trattamento viso anti lucidità, con protezione 50, che è perfetto soprattutto per la pelle mista e grassa. Ovviamente la protezione è sempre sicura, ma ha una texture che evita di lucidare la pelle, che non è che ci piaccia tanto. E altra novità è il dopo sole, l'acqua idratante 3 in 1, perché ha una nuova formula, che è più leggera, però è sempre molto idratante, ha un profumo fresco al manoi, 50 ml in più rispetto al packaging precedente, e ovviamente al 92% di ingredienti con origine naturale. E questo era tutto l'agile. Abbiamo mostrato tutto il catalogo, come sempre vi ricordo che qui sotto nell'info box c'è il link per contattarmi per le informazioni e per gli ordini. Come sempre c'è anche il link, sempre qui sotto, per scaricare il catalogo in formato PDF, così potete tranquillamente sfogliarlo su tutti i vostri dispositivi multimediali. E non mi resta che augurarvi buoni acquisti naturalmente profumati con il Magico Autorale Mondo di Brochet.